Benissimo, buonasera, benvenuti al ripilogo della lezione del 4 dicembre 2013 in questa lezione avevo spiegato come si faceva a sedersi su degli oggetti e quindi avevo presentato un paio di script utili però prima di adentrarsi sugli script proviamo a vedere come ci si può sedere su un oggetto a costo diciamo quasi zero quindi si può costruire un cubo, quindi ho fatto il tasto destro e crea un oggetto e senza fare niente potrei dirgli che toccandolo mi siedo su quell'oggetto facendo in questo modo effettivamente se io clicco su, adesso questo è un cubo vedete che mi siedo però il modo in cui mi siedo non è particolarmente soddisfacente e mi siedo abbondantemente sopra e in una direzione sbagliata quindi la prima cosa che devo fare è fare uno script che consenta di sedermici in maniera ordinata allora lo script più semplice per un cubo lo vediamo qua su questo cubo appunto qui dentro abbiamo un... cioè se vedete se io mi siedo questo cubo mi siedo e mi siedo indipendentemente da come sono messo infatti su Second Life o su OpenSim ci si può sedere anche senza script in teoria però in questo modo mi siedo sempre nello stesso modo allora lo script dentro è molto semplice ed è allegato a questo video ed è uno script seduta su cubo e script seduta su cubo è semplicemente un'istruzione unica in cui dice le coordinate e l'elsit target e poi ci si dà l'x, la y e la z in cui mi devo sedere quindi vedete allora per capire la x e la y e la z ci avviciniamo al cubo vedete che nel cubo quando è selezionato ci sono tre frecce una rossa che equivale alla x una verde che equivale alla y e una blu che equivale alla z quindi avendo detto 0,3 sulla x vuol dire che mi sposto di 30 cm a sedermi lungo la x avendo detto 0 sulla y vuol dire che mi sto fermo lì quindi non mi muovo rispetto alla sinistra o destra mentre invece la x è avanti e indietro e 0,5 vuol dire 50 cm sopra di me quindi riassumendo avendo fatto uno script di questo tipo che è quello che avete visto prima mi siederò esattamente in quel punto quindi se mi siedo vedete che mi siedo esattamente in una distanza di 30 cm un po' più a destra e di 50 cm verso l'alto quindi se io voglio spostare il punto di seduta questo è molto importante posso, se io voglio spostarmi e sedermi un pochino più in avanti invece che 0,3 potrei mettere 0,4 e poi salvo il mio script e a questo punto se mi alzo e mi risiedo vedrete che mi siedo un po' più sul bordo quindi posso controllare quanto e come esattamente mi siedo sul bordo di questo oggetto notate che lo script una volta messo non è importante che ci sia può essere anche cancellato perché viene impostato un sit target che rimane anche cancellando lo script quindi se io mi alzo vado sullo script e cancello lo script di seduta tasto destro delete quindi non c'è script allora questo cubo rispetto a un cubo ipotetico che non ha script quindi qui ad esempio questo cubo gli diciamo soltanto che ci si siede allora questo è il cubo di default che vedete che ci si siede in un modo molto strano e questo è il cubo dove in origine avevo messo quello script di seduta elementare sit con script ma in realtà vedete che non c'è lo script dentro quindi se io mi siedo su questo cubo vedete che continua a rimanere lo script precedente ora il script che abbiamo fatto vedere quindi script con seduta lo teniamo un secondo quindi lo vediamo sit ah queste sono solo le animation prendiamo gli oggetti sit con script che era questo ok allora su questo script volendo possiamo anche vedere come cambiare questo script per adeguarsi a una forma un pochino diversa ad esempio supponiamo di avere una piattaforma dove vogliamo sederci è in più questa allora lo script di seduta abbiamo visto che era 0,3 e 0,05 quindi vuol dire che è esposta 0,3 e 0,5 in alto quindi su questo particolare oggetto faccio stand se mi siedo vedete che mi siedo più o meno in centro ma se io voglio sedermi più verso l'avanti devo cambiare perché cambia della forma del cubo quindi nello script dovrò ammettere di sedermi un pochino più avanti quindi ad esempio non 0,3 mettiamo ad esempio 1,0 quindi un po' più avanti salvo metto in piedi e vedete che mi sto sedendo progressivamente spostato e qui non va ancora bene se questo fosse veramente un posto a sedersi perché dovrei sedermi ancora almeno mezzo metro più in avanti e quindi mi alzo modifico il mio script script seduta 1,5 metto lungo la x vedete x, y e z quindi se io mi siedo a questo punto qua ecco mi siedo abbastanza bene sul bordo quindi vedete che lo script di seduta deve essere taroccato in funzione di quello che voglio ottenere e quindi in funzione dell'oggetto che sto usando come sedia effettivamente ricordate che una volta che ho trovato la posizione ottimale di seduta potete poi cancellare lo script quindi potete prendere questo script seduta su cubo lo cancelliamo e a questo punto però anche se mi risiedo viene conservata la seduta e questo è l'effetto più interessante rispetto al cubo senza seduta questo qui vedete che non è controllabile e in questo modo abbiamo anche un carico di script nullo sulla sim quindi questo script qua, lo script di seduta ve lo allego su pastebin e quindi potete utilizzarlo e potete metterlo su vari oggetti che volete sulla vostra scena quindi potete avere una scena con tanti oggettini dove mettete la seduta che volete in realtà molto spesso su Second Life OpenSim si usano queste palline palline di seduta dove sopra in cima c'è scritto una stringa tipo siediti quindi io andando a sedermi su questa vedete che scompare la pallina e io assumo la posizione, la posa di seduta questo è molto importante è lo script che vi allegheremo allegherò insomma su questo video e vediamo un po' come è costituito questo script è molto semplice in realtà lo script è vedete che c'è uno script che si chiama sit lo script in realtà è complicato ma non è molto interessante che cosa c'è scritto se non fosse che lui usa il siediti della descrizione per mettere la stringa sopra e poi dovete anche mettere un'animazione che deve fare quando uno ci si siede quindi ad esempio qui c'è scritto sitting crossheadmail che è un'animazione che c'ho ma se io avessi un'altra animazione che voglio usare ad esempio mettiamo no, c'è un'animazione un po' più neutra ma è neutra diciamo qualunque cosa che posso fare ad esempio questo qui possiamo fare rise arm 20 secondi che è un'animazione che ho fatto io la metto dentro l'oggetto ok? e cancello l'animazione precedente quindi cancello animazione sitting crossmail la cancello ok? poi per essere sicuro che questo script prenda effettivamente tutto posso fare il reset che è sempre una buona norma il reset dello script a questo punto quando mi siedo anzi in realtà questo firma è un autografo quindi ci conviene magari invece che siediti scrivere firma autografo no, rise arm mi ho detto scusate alza la mano allora alza la mano per farglielo fare dobbiamo comunque per sicurezza gli facciamo il reset eccolo qua e poi quindi alza la mano facendo così vedete che alza la mano sedendomi su quell'oggetto questo è per fare un'animazione qualunque in realtà stiamo parlando di script di seduta e la seduta è una seduta variabile quindi a seconda di come la facciamo di seduta abbiamo anche questa seduta sul tappeto ricordiamoci che la tecnica è sempre la stessa cancelliamo l'animazione precedente gli mettiamo l'animazione questa che abbiamo ok e poi ci sediamo e vedete che abbiamo una seduta sul tappeto niente quindi che altro dire noi mettiamoci magari la seduta originale guardate cancelliamo sitting crossed mail eh a volte non funziona perfettamente la la seduta bisogna uscire e entrare insomma fare qualche qualche piccolo trucco quindi diciamo sulla seduta è un po' tutto quello che posso dirvi e ci sentiamo alla prossima incontro buonasera salve grazie a tutti